vi presento oggi l'ultimo mio libro python pratico esercizi per imparare a programmare è pubblicato da lsvr il mio editore storico è un libro in cui cerco di spiegarvi come imparare a programmare in python non è un manuale di python cioè ci sono risorse infinite su come imparare a fare ciclo for e ciclo while eccetera questo qua l'ho scritto pensando di fornire degli esercizi un percorso in cui vedete come applicare le cose il ciclo for per cosa lo uso a cosa mi serve una variabile e quindi tanti esercizi che partono da zero arrivano fino a creare server applicazioni per il web servizi cose del genere è un capitolo dedicato a tk inter per fare interfacce e programmi desktop con i pulsanti e così via trovate dei capitoli anche per realizzare eseguibili per arrivare a creare programmi professionali semi professionali quindi abbastanza belli da vedere a cosa vi serve tk inter oggi per rivestire dei tool dei task che potete farvi che ne sono più belli più pratici più facili da utilizzare l'idea è questa qua l'approccio è quello di programmare altro libro che ho autoprodotto lo trovate in vendita solo su amazon lulu guardate su zeppelinmaker.it per vedere i link in questo libro che avevo fatto anche in inglese di cui ho venduto forse uno o due copie penso una due perché una l'ho comprata io dentro programmare trovate l'approccio più filosofico con degli accenni a linguaggi simili a python trovate anche scratch per esempio che viene usato in ambito didattico comunque python è un linguaggio nato con scopi didattici ma viene oggi utilizzato da tantissime tantissime società come per esempio google facebook per fare elaborazioni sui big data chiaro che se non sapete fare il programma base difficilmente arrivate lì che sono poi cose fatte con librerie non è che vi scrivete da zero l'intelligenza artificiale queste cose qua quindi è un buon punto per iniziare e arrivare dopo un percorso di crescita a scrivere applicazioni professionali o semi professionali spero possa essere molto utile lo trovate anche questo in vendita sui soliti canali spero sia interessante e bene vi saluto vi ringrazio ci vediamo presto ciao